Sfida tra neopromosse allo stirpe, Frosinone contro Genoa. Lo scorso anno in B si sono date battaglia per tutta la stagione. Perde palla qua il Frosinone, Sabelli subito dentro, Puskas! Puskas sulla linea al salvataggio di Turati, dopo nemmeno un minuto, prima palla a gol per il Genoa. Si è divorato la chance dell'1-0 Puskas. Sabelli, duello con Marchizza, Sabelli mette il cross che passa, deviazione! Sul fondo con Frendrop, ancora il Genoa vicino al gol, ci ha provato il danese. Oiono, servito il gabonese, uno contro uno con Apsa, tocco fuori, Soulet col sinistro! Piega le mani a Martinez e porta in vantaggio il Frosinone! 1-0, segna sempre Soulet, sesto, centro, in campionato per il numero 18. Puskas si muove bene, poi Malinovsky! Gol meraviglioso di Ruslan! Malinovsky per l'1-1 del Genoa! Primo gol in questo campionato per l'Ucraino, alla sua maniera, con un bolide! Che dira, gira di prima intenzione l'ex Bari, prova a lanciarsi Oiono. Ballone centrale, Reynier libero dall'altra parte, Ibrahimović! In due tempi Martinez, la inchioda a terra. La porta fuori il Frosinone, non arriva Reynier, fase un po' confusa, Frendrup, Sabelli, posizione da valutare. Sabelli mette al limite per Torsby, che arriva in corsa, ma manda a lato. Va Malinovsky col sinistro! Il montante a dire di no all'Ucraino, vicino alla doppietta. Può correre Ibrahimović, lo ha visto Barenicea. Caso, uno contro uno, rientra Caso e la pallone verso Marchizza. Martinez, in caccio da Barenicea. Decide di andare a destra, Soulet, stop e lancia nello spazio Brescianini, Monterisi! Al 94esimo, Ilario Monterisi devia in porta! E fa 2-1 per il Frosinone! Basta così, cala al Sipario! Il Frosinone batte il Genoa. 2-1 decisivo in extremis. Ilario Monterisi, un gol pesantissimo. Sipario!